A rischiato il rosso Ogier, una reazione gratuita di Ogier. Allo Minelli. Un attimo prima, alla fine del primo tempo, dopo una bella azione veloce e manovrata, Ogier tolla lo spazio per un tiro dalla distanza che è fulmina della nuova, con un destro da lì, che rilascia spazio all'altra elettrica, 3 a 0. A fine del primo tempo, dopo una bella azione veloce e manovrata, Ogier tolla lo spazio per un tiro dalla distanza che è fulmina della nuova, con un destro da lì. A fine del primo tempo, dopo una bella azione veloce e manovrata, Ogier tolla lo spazio per un tiro dalla distanza che è fulmina della nuova, con un destro da lì, che è fulmina della nuova, con un destro da lì, che è fulmina della nuova, con un destro da lì. A fine del primo tempo, dopo una bella azione veloce e manovrata, Che è fulmina della nuova, con un destro da lì, che è fulmina della nuova, con un destro da lì, che è fulmina della nuova, con un destro da lì, che si interessa è fulmina della nuova, con un destro da lì. Altrimenti insieme a Boccalonda ha scroccato Attenzione adesso Si fa bene il salice Lolo va da solo e sbaglia anche il tocco Oggi era di prima Verso Polombi Luperto In anticipo il calcio d'angolo Attenzione ancora all'azione della Salernitana con OCR Si propone sulla destra a casa sola Prova a chiudere il palco Oggi era Arrivati Oggi era Rosso Badagna palla a Palombi Scarica su Oger Palombi quasi a re di rigore Providenza Per Boccalonda va da solo l'ex giocatore dell'Alessandria Poi Oger Pallone per Sprocati Lato corto dell'area di rigore Lato corto dell'area di rigore Correre E allora ripropone il cross Verso Minala Allontana Zaic Oger col destro Senza preoccupazioni per Gabriel Salernitana che aveva chiuso la porta Fino al gol di Rodriguez E c'era riuscita per la prima volta E allora ripropone il cross Colpo di testa di Correre Colpo di testa di Oger Colpo di testa di Gionberg Casasora E' un tit Tanto Vitale Adesso Oger E' un tit E' un tit Vitale E' verso il centro Si deve fermare Oger Largo è rimasto Casasora E' con lo servito Giongione 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 Attenzione Attenzione Giongione Giongione Trova all'ostacolo Oger Resta a terra Giongione Giongione Si continua a giocare Bale c'è Minala in prota cerca spazio in prota Yocolano, l'ele di rigore la chiusura di Ogier e Bari adesso torna ad attaccare con il sistema di nuovo Zaic attenzione partito a destra Benassera ecco lo servito dentro l'ele di rigore no no con il suo controllo attiva Ogier con il fallo di Benassera arriva Di Lorenzo con la sua velocità a destra Ogier lo rincorre poi Donnarumma sempre Ogier il solito muro del Pianese vincente si guadagna anche il fallo arriva puntuale come sempre da quella parte Di Lorenzo che riceve provato 1-2 ha chiuso però la Salernitana con un Ongera molto molto attento in fase di volterimento è rimasto a terra Di Lorenzo che si sta però rialzando drive a rialzando la Salernitana che si sta però rialzando sono proprio più c'erano i 2-4 3-4 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti